Qualcuno doveva averlo calunniato perché senza che avesse fatto nulla di male, una mattina Iosef Kappa fu arrestato. L'inizio del processo di Kafka è forse uno degli inizi più straordinari, gli incipi più travolgenti della storia della letteratura perché ha insieme una dimensione di fantasia straordinaria e un'drammatica allusione a quello che è il problema dell'uomo moderno, il problema della capacità del singolo di confrontarsi con le istituzioni, il sogno drammatico, l'incubo di qualcuno che non riesce a dominare quello che c'è intorno a lui. E cos'è la storia che racconta il processo? È la storia, come sappiamo, di una dimensione assolutamente fantastica e surreale di un uomo che viene accusato di qualcosa che non sa cos'è, che non viene processato ma subisce un processo e che alla fine sarà condannato e non sa perché. Il tutto è una dimensione talmente onirica, talmente impalpabile di incongruenze, di vita senza senso, che sembra essere tutto soltanto un unico e drammatico sogno, ma è un sogno terribile. Perché nella storia Iosef Kappa, che lavora in una banca, alla mattina si trova di fronte a due persone che vogliono arrestarlo, certo, ma non si sa perché e soprattutto pensando a un errore, lui ritiene subito di potersi difendere limpidamente e aggressivamente, ma si sconterà contro il muro di gomma di un'istituzione impenetrabile, la quale non si capisce né che tempi né che metodi né quali sono le leggi alle quali si obbedisce e contemporaneamente in base alle leggi Kappa viene arrestato. Ma quando lui dice, ma io queste leggi non le conosco, ecco, vede, lei sostiene di essere innocente e non conosce nemmeno le leggi. Nessuno può essere innocente se non conosce le leggi. L'incubo di Kappa comincia quando, di fronte all'accusa per cui viene chiamato in tribunale, dovrà cercare il tribunale, capire che cos'è. Sono degli edifici inverosimili in cui ci si perde, delle soffitte, delle cantine, dove ci sono i personaggi più straordinari, i giudici sono dei personaggi che sì, sono anche disponibili, ma fondamentalmente non sono disposti a accusare nulla. E la natura delle accuse che Kappa ha avuto non gli saranno mai presentate. Il suo presunto crimine è una cosa insensata, inesistente. E quando la mattina del suo famoso arresto arrivano questi due personaggi, li portano via la colazione, lo trattano male, questa cosa sembra essere soltanto un particolare, ma tornerà perché un giorno Kappa torna in banca, è lì che sta lavorando e a un certo punto in uno sgabuzzino della banca sente dei gemiti, apre lo sgabuzzino e vede che i due che erano voluti ad arrostarlo quella mattina sono lì che vengono pestati, fustigati, perché gli hanno rubato la colazione e gli hanno portato via un po' di biancheria. E questa cosa si ripeterà come in una folle sogno, un folle inco onirico, alle volte tornando in banca Kappa apre lo sportello dello sgabuzzino e lì ritrova i due che vengono fustigati follemente per averli portato via la colazione. Di rientro alla banca lui incontra la signora Gruba che è la sua affitta a camere, è un rapporto stranissimo, questa donna da un lato è molto disponibile, cerca di consolarlo, dice di non prendersi a cuore le cose, che questo è quello che succede, che lui se la caverà e dall'altra parte però chiaramente è una spia, è quella che racconta quello che fa, è una persona di cui non ci si può fidare. E di lì al tribunale dove Kappa baldanzoso all'inizio a un certo punto poi si smarrisce, trova dei personaggi straordinari, una signorina che gli fa vedere le gambe, un'altra, un'uscere che praticamente lo invita a andare con sua moglie e poi Kappa la trova tra le braccia di un altro uomo, una ragazza che si presenta come un'informatrice e l'aiuta a portare all'uscita. Dentro il tribunale ci sono addirittura delle lavanderie, ci sono dei personaggi straordinari e Kappa nel cercare disperatamente di orientarsi in questa cosa finirà sulla base di uno zio che gli ha aiutato andare da un avvocato, dall'avvocato conoscerà una certa Leni, una sua assistente che però è anche un'infermiera e lì ci saranno dei personaggi stranissimi, un vicino di casa che poi diventa il cane dell'avvocato e ancora un amico pittore di un industriale, di Torelli, lo aiuterà. Kappa va a trovare questo pittore e si ritrova dentro un edificio del tribunale, il pittore sta dentro il tribunale e dentro il tribunale c'è una specie di banda di ragazzine che tormentano Kappa e tormentano Torelli e vogliono farsi fare il ritratto. Anche a lui Kappa si dichiara innocente e il pittore risponde che tutto sommato quando in un tribunale viene avviata una causa è molto difficile che il tribunale receda dalle accuse mosse all'imputato. Questo il dramma di fondo perché Kappa non saprà mai neanche quali sono le accuse però deve cercare di difendersi. Allora ancora una volta incontra Leny, la ragazza, e cerca di trovare un senso a quello che trattare, ma anche Leny lo abbandona. Un giorno si ritrova ad accompagnare un cliente della sua banca nel duomo della sua città. Lì una situazione drammatica e onirica ancora una volta. Mentre nel duomo improvvisamente dal pulpito appare un prete che comincia a dire Lei, Iosef Kappa, dice cosa c'è? Venga qui. Ma perché? Io sono il cappellano del carcere. Cosa fa il cappellano del carcere? Perché è finito il duomo? Come faceva a sapere che Kappa sarebbe stato lì? Non lo sapremo mai, ma fa parte di questa dimensione dell'incubo che Kappa vivrà fino in fondo. Perché il cappellano non è lì per dirgli che deve salvarsi oppure che cercherà di aiutarlo. No, è lì per dirgli che il tribunale è il tribunale, che non chiede nulla e non dà nulla. Che quando lui arriva lo lascia arrivare, quando va via lo lascia andare via. Il tribunale vive al di fuori di lui e Kappa deve soltanto accettare quello che è un destino ineluttabile del quale non potrà fare altro che subire le conseguenze. Alla vigilia del suo trentunesimo compleanno Kappa troverà due persone in casa. Lo portano via. Capisce che sono quelli che devono eseguire una sentenza. Una sentenza di cui non sa niente, che non sa se sia stata pronunciata e da chi. Ma viene portato, allontanato da casa, portato in una cava di pietra. Lì, con un coltello in mano, i due lo guardano con aria feroce. Lui si chiede a quel punto se deve essere lui a prendere in mano il coltello. Forse deve uccidersi da solo. Oppure deve lasciare che siano gli altri a farlo. E alla fine, tutto sommato, accetta questa dimensione. Perché ha capito che non c'è più niente da fare. I personaggi che siano dentro lui sono soltanto gli elementi finali di un dramma che si è costituito a sua insaputa. Il coltello affonderà dentro di lui e lui morirà. L'ultime parole saranno come un cane. Come un cane e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere. Perché dietro questa dimensione onirica c'è anche un senso di colpa. Qualcosa che rode dentro Kappa. Perché Kappa non sa cosa ha fatto ma sa che c'è qualcosa per cui si può sempre essere processati. Non sa che cos'è il processo ma sa che la colpa esiste. C'è dietro questa cosa forse l'incubo ebraico di qualcosa di irrisolvibile. Ma il processo dentro di sé non è soltanto l'incubo di qualcuno che sogna di dover essere processato senza sapere perché. È l'incubo dell'uomo moderno che sa che intorno a sé non c'è altro che la propria singola responsabilità. che è solo davanti a tutto e che se a un certo punto le istituzioni decidono di prenderlo e macinarlo dentro i loro ingranaggi molto difficilmente lui potrà sopravvivere perché il moloch delle istituzioni è più forte del singolo e perché nella modernità l'uomo è solo con sé stesso.